Courage, Mattia Wagen potrebbe dirigere l'Action Shirfi. La venti TH Centuri Fox ha acquistato Courage, sceneggiatura scritta dal produttore esecutivo di Stranger Things Carl Gajdusek, e ora Mattia Wagen potrebbe salire a bordo del progetto. Secondo De Adline, il regista dei due Kingsman sarebbe interessato a produrre e potenzialmente dirigere Courage, Action Shirfi la cui storia è ancora segreta, ma che dovrebbe regalare al pubblico un dramma epico sulla falsariga di Inception ed Edge of Tomorrow, Senza Domani. Le fonti del sito affermano che Mattia Wagen nella sua Marvel Films produrranno assieme a Michael Ellinberg, ex veterano del reparto drammatico della Bocchea da poco inaugurato una sua casa di produzione, la Media Race, che si è legata al film in cantiere quando la Fox acquistò i diritti dello script a giugno. A supervisionare Courage per conto dello studio sarà Matt Trilly. Il film con il quale Mattè Wagen si è più avvicinato alla fantascienza è probabilmente X-Men, l'inizio, ma ha avuto modo di raccontare una storia epica dall'ampio respiro con il Fantasister Dust. Unendo le due esperienze, il regista potrebbe dar vita a qualcosa di unico con Courage. Wagen, dopo tutto, riesce sempre a conferire ai propri lavori uno stile inconfondibile, probabilmente chiave del successo del franchise Kingsman, ambientato nel mondo dello spionaggio ma con un tono ben più sopra le righe rispetto ai film di James Bond. Mattè Wagen, dettosi anche interessato all'Uomo d'Acciaio 2, ha già in mente un terzo capitolo per la saga, perciò bisognerà vedere come se riuscirà a incastrare tutti gli impegni nella propria agenda. Sempre ovviamente che finisca per dirigere davvero Courage. Courage